Musica Sconto tra una vettura e una moto oggi sabato 30 dicembre poco prima delle 16 sulla strada provinciale 222 tra lo Zegno e Castellamonte. La moto, un'onda CBR 900 condotta da un uomo sulla cinquantina di Fabria dopo l'impatto con una Fiat Panda con a bordo un pensionato è finita a terra a bordo strada. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Castellamonte, due ambulanze della Croce Rossa di Castellamonte e San Giorgio Canavese e i carabinieri della Radiomobile di Ivrea. Subito soccorso, il centauro dopo le prime medicazioni è stato trasportato all'ospedale di Quarnier. Non pare essere in pericolo di vita, il leso conducente della Panda, la dinamica dell'incidente al vaglio dei carabinieri. Grazie a tutti. Grazie a tutti.